caro dave sto girando tra i tavoli vedo tantissima bella gente tantissime bella gente fammi una zoomata fammi una zoomata questa ragazza l'ho vista la prima volta quando ha fatto il morbillo ma poi è sparita ecco qua vediamo che bella tavolata cosa festeggiate cosa festeggiate classe 58 applauso fate l'applauso ma tra loro tra loro secondo me c'è un personaggio da intervistare vero lui 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 io l'ho visto in televisione e mi sembra che si chiami domenico ed è il più grande trombatore del lago di garda è vero non è vero aspetto un attimino e quindi diritto al premio il nuovo cellulare del convento di nonato a pannelli solari ecco qua allora io in questo era ancora duro bellissimo perché lui si chiama domenico è sempre duro e ce l'ha cielo come il disco dei squalor cielo duro allora cosa non auguri alle donne cosa non auguri alle donne quando ti incontrano cosa non auguro cosa non vuoi augurare di non incontrarti eh certo perché altrimenti tu 5 e 3 5 e 3 8 benissimo perché giustamente questo ragazzo che è domenico che festeggela con scritti dai 58 è giusto è il capo ed è il più grande però stando a quello che di stando a quello che si dice è una doppia perché stando a quello che dicono fa tutto lui meno perché lui è part time è part time lui guarda lui guarda lui fa guardatore allora caro Dave cari amici che arrivate tutti da peschiera del garda peschiera del garda grazie